Rivedere almeno in parte le relazioni euro-cinesi adottando anche strumenti che possano controllare investimenti europei nel paese. Alla proposta della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un discorso a Bruxelles. Non si tratta di rompere le relazioni con il paese asiatico, ma di rivedere al ribasso l'impegno politico ed economico con Pechino. Alla base ci sarebbe il cambio di atteggiamento della Cina sul fronte internazionale. La Presidente della Commissione Europea si regherà a Pechino la settimana prossima insieme al Presidente francese Macron. Tra le altre cose sarà l'occasione per fare pressione sulla Cina perché faccia da mediatore nel conflitto tra Mosca e Kiev.